ciao a tutti e bentornati sul mio canale siamo tornati qui con jump force allora io non è sincero sarei potuto salire ancora più in alto di livello però ho giocato per un po poi mi son fermato mi son messo anche a far giocare altro eccetera però da livello 20 l'ho portato a livello 46 quindi 20 20 e passa 26 livelli li ho fatti in più ho cambiato qualche abilità eccetera eccetera adesso andiamo col proseguo della missione vediamo come andiamo perché avevo qualche difficoltà in più missioni chiave allora salvataggio mondo jump name eccolo qui gamer salvataggio ciao ciao i disintegro cell ma fregato via combinazione dei meteoriti vai combinazione meteoro aia qua rischio di come ci si parava se ho dimenticato è da un po è ok capo oh dai buono 47 aia 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 un video adattato e aia 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 A presto Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 un'altra scelta. a tutti. a tutti.